E' iniziato il countdown per l'accensione della focara di Novoli che sarà accesa in diretta su Antena Sud. In questi giorni una serie di eventi collaterali stanno rendendo magica la festa in onore di Sant'Antonio Abate. Il culmine di tutti gli eventi sarà alle ore 20 e 30 di lunedì 16 gennaio, quando sarà dato fuoco alla pira tra canti e balli. A precedere l'evento sarà lo spettacolo Taiko con la regia di Paolo De Falco, un viaggio nel mondo degli antichi tamburi giapponesi utilizzato in passato nelle pratiche di rituali di shanamenismo. Quest'anno molta legna sta arrivando dalle zone di Leverano, dobbiamo ringraziare veramente Leverano per il contributo che ci ha dato. Ai piedi della focara, in giro della focara stiamo mettendo delle foto, delle focare antiche, dai primi del 1900 ai giorni nostri. Sarà veramente una cosa molto bella che spero avvicineranno i giovani a questa tradizione per far capire loro effettivamente come si realizza la focara, come è stata realizzata, da dove siamo partiti. Tengo a precisare il Comune di Nuovole insieme alla provincia di Lecce e alla regione Puglia ogni anno l'hanno fatto da padroni. Quest'anno, anzi l'anno scorso già abbiamo avuto il patrocinio del Ministero della Cultura. Quest'anno abbiamo proposto il nostro progetto, molto bello, il Ministero del Turismo ha valutato il nostro progetto e l'ha valutato in maniera abbastanza positiva. Un bel riconoscimento per il Comune di Nuovole.